L'arte barocca a Roma può essere riassunta proprio nella sfida tra i due massimi architetti dell'epoca, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, due geni rivali. Vediamo il barocco a Roma dopo la visita dei tifosi olandesi. La Roma barocca che conosciamo da secoli, invece, è questa. Con le sue piazze, Piazza Navona, con le sue chiese e fontane, con le sue meravigliose statue. Secoli di storia calpestati, il disprezzo della grande arte dei nostri padri. Conoscere il passato allora significa rispettare. Chi furono Bernini e Borromini? Possiamo dire che furono due grandi architetti. Del Seicento che lavorarono a Roma. Collaborarono per due anni, quando avevano l'età di 24 e 25 anni. Poi tra loro nascerà una grande rivalità, che durerà per 30 anni. Insieme lavorarono a Palazzo Barberini, manifestando due caratteri diversi e due stili diversi. Chi era Bernini? Bernini era un architetto, uno scultore e un pittore. Aveva una personalità di pace. Era amato da tutti e soprattutto dai papi. Nelle sue opere ricercherà la perfezione e gli effetti scenografici. Le sue statue sono Apollo e Daphne. La scultura del David e il ratto di Proserpina. Ma tante altre, come l'estasi di Santa Teresa. Il guardacchino di San Pietro. E poi le opere di architettura. In piazza San Pietro, l'emiciclo, con il colonnato. E ancora le fontane, come la fontana del Tritone, la fontana del Moro, la fontana dei Quattro Fiumi, in piazza Navona. La figura che vediamo teme il crollo della facciata della chiesa di Borromini, alludendo all'antagonismo tra i due artisti. Chi era Borromini? Francesco Borromini avrà una personalità contrapposta a quella del Bernini. Introversa, ansiosa, irrequieta. Le sue architetture sono San Carlino alle quattro fontane, con la stupenda cupola, l'innovativa facciata. Santivo alla Sapienza, con la pianta stella. Le sue forme concave e convesse. Sant'Agnese in Agone, in piazza Navona, con la cupola e con i campanili. L'oratorio di Filippini. E poi il famoso restauro di San Giovanni in Laterano. La sua profonda originalità e la grande carica innovativa non furono mai adeguatamente comprese dai suoi contemporanei. fu schiacciato dal successo professionale di Bernini. Farà molta fatica ad affermare il suo talento. La sua inquieta esistenza si concluderà tragicamente con il suicidio a 67 anni. Dopo la sua morte molti capiranno la sua straordinaria genialità. che rispondevamo così, colpo su colpo, opera su opera, capolavoro dopo capolavoro. Per trenta lunghi anni abbiamo portato avanti una guerra fatta non di distruzione, ma di creazione prolifica, raffinata e sempre più sublime di opere. Da donare a Roma. Per sempre. Per sempre. Un'arte che ci fa sognare da secoli. Ma cosa direbbero loro oggi vedendo questo? Forse direbbero giù le mani dai nostri sogni.